Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indici. Settimana numero 14 2021, performance tutte positive, solo Milano è stata negativa per un 1,13%, il DAX è stato positivo sotto l'1%, molto forte invece Wall Street, come vedremo dai grafici, con il Nasdaq a 3,86%, decisamente una ottima performance. È stata una settimana che ci ha dato alcune indicazioni, la terza settimana che i listini europei viaggiano con volumi scarsi, è stata una nuova settimana corta per i listini europei, mentre sono due settimane che viaggiano su volumi bassi la piazza di Wall Street, anche se questa settimana hanno avuto una settimana regolare, lunedì in Pasquetta in Europa e Wall Street è stata regolarmente aperta. Come vedete Milano che settimana scorsa era decisamente la migliore con un più 11,14%, adesso è scivolata addirittura al penultimo posto con il DAX e Dow Jones ampiamente sopra al 10, anche SP500 ci ha portata davanti a Piazza Affari e il Nasdaq praticamente ha raddoppiato la sua situazione portandosi vicina alla situazione di Milano. Detto questo, avendo detto appunto dei volumi che sono rimasti molto bassi e che stanno preoccupando a questo punto la situazione, in quanto si stanno registrando nuovi massimi storici, lo ha fatto il DAX per la seconda settimana consecutiva, lo ha fatto il Dow Jones per la seconda settimana consecutiva, lo ha fatto SP500 per la seconda settimana consecutiva, il Nasdaq non ha fatto il nuovo massimo storico per pochi punti, ma ha avuto una notevole reazione, tutto questo però con volumi decisamente bassi, quindi mercati che salgono non accompagnati dalla coralità degli investitori, scatta sicuramente un campanello d'allarme. C'è da dire che la settimana degli indici americani è stata molto forte, pertanto pare che i mercati abbiano già abbastanza digerito l'idea del Presidente Biden di alzare le tasse alle aziende, alle multinazionali, probabilmente discuteranno sul numero se sarà 28, se sarà 35, se sarà 21, se sarà motivo di discussione e trovare un accordo, ma l'idea pare che comunque sia stata accettata. In America sta migliorando decisamente anche la situazione del percorso vaccinale, cosa che in Europa invece non va, AstraZeneca pare non la voglia più fare nessuno questa vaccinazione, vi siano molte disdette di chi era prenotato con AstraZeneca, i vaccini di Pfizer e di Moderna invece sono scarsi, sono ridotti, non si riesce a partire con la pianificazione delle vaccinazioni come si voleva. In alcune nazioni europee importanti, parliamo di Francia, parliamo di Germania, parliamo della stessa Italia, vi sono continue chiusure, continui lockdown, pertanto l'economia stenta a ripartire e pertanto gli investitori, come abbiamo visto, rimangono in finestra. I mercati salgono sulle attese, sulle aspettative, ma non vi è una coralità di investitori e questo deve far riflettere. Ricordiamo in settimana alcuni dei fatti più importanti, è venuto a mancare il principe Filippo di Edimburgo a 99 anni, 8 giorni di lutto nazionale in Inghilterra, in Gran Bretagna e vi è stato quel triste siparietto voluto dal Premier Erdogan su cui chiaramente poi ognuno si è fatto la propria idea. Passiamo pertanto agli indici e cominciamo a guardare come sempre Piazza Affari, abbiamo detto essere stato l'unico indice negativo e la candela sinceramente non è stata delle più belle. Apertura in gap up praticamente sui massimi di seduta e discesa fino a perdere il livello di supporto e tornando praticamente al livello di partenza, di apertura della scorsa settimana. È brutta anche perché si può fare un riferimento con la situazione accaduta esattamente a fine febbraio del 2020, quindi finalmente vi era stata la candela che aveva rotto la resistenza decennale, così come è successo settimana scorsa e la successiva candela è stata una brutta candela, è stata brutta all'epoca, è stata brutta quella di questa settimana, la prima impressione è che si debba per forza di cose scendere a testare il supporto dei 24.080 punti, l'unica cosa positiva, l'unico appiglio per chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno è il fatto che i volumi sono stati in calo, decisamente sotto la media e pertanto una persona con ottica positiva potrebbe valutare questo discorso assieme alla buona chiusura di Wall Street che nell'ultima ora di venerdì ha disegnato una bellissima candela di forza e pertanto aspettare, attendere fiducioso che Milano possa prontamente riprendersi alla luce della forza degli altri listini mondiali. In ogni caso primo supporto 24.080, dovesse cedere ai noi il prossimo livello importante sarà tutta l'area tra i 22.9 e i 23.100 punti, si dovesse invece prontamente tornare sotto i 24.500, sopra i 24.558, ecco che a quel punto primo obiettivo area 25.000 punti, allungarsi successivamente sui massimi dei 25.500, dopodiché chiaramente arriveremo a maggio stagione dei dividendi e si tornerà, sarebbe veramente importante per dare una svolta a piazza affari che alla fine dello stacco dei dividendi si rimanesse al di sopra dei 24.558 punti, che dopo essere stata una resistenza per oltre 10 anni possa diventare un supporto importante. Passiamo a vedere invece il listino tedesco che ha avuto un andamento similare a quello di Milano, apertura in gap, si è allungato a registrare un nuovo massimo storico a 15.311 punti, dopodiché ha iniziato a scendere, ha cercato di chiudere il gap che è rimasto aperto per una trentina di punti, dopodiché ha recuperato parzialmente lasciando la candela rossa, ovviamente la vedete qui verde piena, in quanto la chiusura è stata comunque positiva rispetto alla candela precedente, ma la candela per come la disegniamo noi sarebbe una candela rossa in quanto la chiusura è stata inferiore all'apertura. Rimane in ogni caso un gap aperto, una piccola lower shadow e volume in calo come vedete per tre settimane anche sul DAX, primissimo supporto importante 14.400 che è abbastanza lontano, vedremo se DAX gli basterà andare a chiudere il gap o se deciderà di riprendere la via al rialzo, vista la forza di Wall Street della chiusura. Passiamo al di là dell'oceano, è stata una settimana decisamente forte per Wall Street, vedremo adesso le candele, praticamente hanno aperto sui minimi e hanno chiuso sui massimi, non vi sono state né lower shadow né upper shadow, addirittura due indici su tre, Dow Jones ed SP500 hanno aperto in gap up e lo hanno lasciato lì e sono partite via, quindi il Dow Jones non ha aperto in gap up per pochi punti, quindi candele di forza e quindi partiamo subito allora con il Dow Jones, ecco qua vedete non c'è stata l'apertura in gap up, comunque apertura e dopodiché ha tirato su dritto, ha chiuso a 33.800 punti, volumi come vedete sempre bassi, nonostante vi sia stata una giornata in più rispetto al corso settimana, volumi sono rimasti sostanzialmente bassi, però nuovo massimo storico per il Dow Jones, il supporto rialzista come vedete passa abbastanza lontano, discorso similare si può fare per il Nasdaq, il Nasdaq è andato a chiudere il gap della fine settimana di febbraio, ne ha lasciato aperto un altro, come vi dicevamo è arrivato di una trentina di punti sotto al massimo storico precedente e sembra pronto per approssimarsi ai 14.000 punti, anche per il Nasdaq il supporto passa abbastanza lontano, è stato però interessante vedere il movimento del Nasdaq che dopo aver toccato il massimo storico è tornato, attestato perfettamente la dinamica di supporto e da cui è ripartito e in queste ultime due settimane sembra essere ripartito con forza. Lo ripetiamo, lo sottolineiamo, unico discorso, volumi veramente bassi, per cui un rialzo non accompagnato dai volumi lascia sempre da tenere le antenne alzate. Chiudiamo la nostra analisi con SP500, come vedete anche qui lo stesso copione, partenza in basso, chiusura in alto, 4128, ha fatto quasi 100 punti SP500, è rimasto questo piccolo gap aperto, l'aria alzista anche qui di supporto passa molto lontano, assolutamente poco da dire per gli indici americani. Vedremo se dopo la forte chiusura di venerdì, dove l'ultima ora i listini hanno accelerato violentamente al rialzo, se ciò darà seguito, darà coraggio agli investitori di tornare sui mercati o se invece da lunedì ci troveremo nuovamente a fare i conti con qualche altra problematica. Vorremmo ricordarvi a tutti, ci teniamo molto due associazioni che ci stanno particolarmente a cuore, sono il progetto Alice Onlus e l'associazione amiloidosi italiana, se volete destinare il vostro 5x1000 o se volete semplicemente fare una donazione per sostenerle, venite sul nostro sito mactrader.it slash trading solidale, troverete tutti i vostri riferimenti per fare la vostra gradita contribuzione per il 5x1000 o semplicemente per una donazione a queste nostre associazioni. Vi ringraziamo di cuore per la vostra sensibilità. Con questo è tutto e vi auguriamo una buona domenica.